Un'esperienza umana molto positiva e questo non è poco. Tutto inizia tre anni e mezzo fa, vivendo in Germania, giustamente ho consultato dei medici tedeschi. Non hanno preso molto in considerazione il mio problema perché avevo una paradondite medio grave. Speravo che mi potessero aiutare, invece dopo tre anni mi ritrovo che stavo perdendo i denti che mi dondolavano. Cioè io quando mi hanno diagnosticato il problema io stavo male, non dormivo, piangevo. È stato per me uno shock perché non mi aspettavo. Pensavo di avere dei problemi però non pensavo di arrivare a perdere i denti e tutto. Però quello che trovi qua è la velocità, la professionalità e proprio il pacchetto completo, capito? Cioè tu diciamo arrivi con un problema e dopo dieci giorni vai a casa con i denti. Cioè da un'altra parte te lo sogni. Io in questo momento mi occupo, diciamo sono una venditrice, lavoro per l'azienda di mio figlio. Viaggiamo in tutta la Germania, facciamo le sacre, vendiamo i nostri prodotti. Quindi è importante perché devo essere sempre sorridente, con l'aspetto felice e non che mi dovevo nascondere. E quindi questo ovviamente in questi tre anni mi ha causato non pochi problemi, mascherine, mi nascondevo. Cioè oggi finalmente quando è tornata a casa, dopo che mi sono ripresa e facevamo i mercatini di Natale, tutto quanto, cioè ero tutta un'altra persona. Oggi sono felice, ringrazio tutti, guarda, vi ringrazio veramente tutti di cuore perché è un bel lavoro. Dal primo all'ultimo, ognuno nel suo ruolo, siamo veramente tutti grandi. Sono felice del mio percorso, lo rifarei senza problemi. Io porto un buon ricordo della Moldavia, mi aspettavo molto bello, invece ho mangiato bene. Ho conosciuto molte persone bellissime dal nord al sud delle isole, guarda, un'esperienza umana molto positiva e questo non è poco.